Una petroliera Smooth C-22 ha subito un'esplosione, seguita da un incendio, intorno alle 9 del 17 gennaio, presso un impianto di riparazione navale sul fiume Mike Long, a ovest di Bangkok, Thailandia. Sette persone risultano disperse, quattro ferite. L'autocisterna era in fase di manutenzione. L'esplosione è avvenuta durante i lavori di manovra, quindi ovviamente l'esplosione è stata causata dal gas nel serbatoio o nei serbatoi, che non sono stati adeguatamente degassati. Grazie a tutti.